Gesù Cristo è la via, Gesù Cristo è la verità, la vita, la gioia, la salvezza si trova in Gesù. Cari fratelli, sorella, bisogna credere, apritevi i vostri cuori, ce l'avete la Bibbia a casa vostra, credo, ce l'avete la scrittura del Signore Gesù Cristo, bisogna aprire la scrittura, bisogna praticare, bisogna credere, perché sta tornando il Signore Santo, sta tornando Gesù Cristo, la verità, la via e la vita. Dobbiamo essere credenti, dobbiamo essere chiamati i figli di Dio, apritevi la legge, apritevi la scrittura e credete nel Vangelo, Gesù Cristo sta tornando, lui è la via, la verità e la vita, se non avete la vita, si trova la vita dentro la Bibbia, si trova la verità dentro, forse ci sono tanti italiani con la Bibbia a casa, ma non leggono la Bibbia, vanno in giro, fanno i passaggi, ma non leggono la Bibbia mai, dormono senza pregare, bisogna pregare in Dio, bisogna credere nel Vangelo, Gesù Cristo, il Santo Dio, la verità che sta tornando, la via, la verità e la vita, le chiede perché il Regno di Dio è vicino, questo è il messaggio, è un messaggio buono, un messaggio di salvezza, è un messaggio che ti può salvare, che ti può cambiare la vita, siamo i peccatori, sì, è vero che siamo i peccatori, ma non continuare a pecare, non continuare a pecare, bisogna pentire, bisogna pentire, se siamo i peccatori, bisogna pentire, chi ti perdona il tuo peccato, è Gesù Cristo che perdona, è Gesù Cristo che perdona i peccatori, alleluia, chi non è Gesù Cristo è perduto, fratello mio, c'è la salvezza in Dio, c'è la verità, la vita e la vita in Cristo, vedete nel Vangelo, aprite i vostri cuori, mi state guardando? Oggi è il momento, oggi è il giorno di salvezza, come ci vedo la Bibbia, domani sarà tardi, dovete essere incredenti, incredenti che praticano quello che c'è scritto, bisogna professare, potete anche ridere, alcuni ridono, pensano che stiamo facendo una follia, non è una follia, questo è la verità, Gesù Cristo è la verità, Gesù Cristo è la via, Gesù Cristo è la salvezza, la sigaretta non ti aiuta, la sigaretta rovina la vita, l'alcol rovina la vita, è Gesù Cristo che dà una vita, Gesù Cristo che dà una gioia, una vera gioia, una gioia pura, anemia, è Gesù Cristo che ti può rendere quella tua gioia, apritevi il cuore, italiani, Italia, Bologna ha bisogno di Dio, Bologna ha bisogno di Gesù Cristo, credete il Vangelo, credete il Dio, apritevi il cuore, imitate il Signore, bisogna professare, questa è la legge, la legge del Signore, questa è la legge giusta, questa è la legge del credere, la vera legge, bisogna leggere la Bibbia, bisogna credere, bisogna credere, non state un buio nelle piene del, bisogna stare in luce, nella luce, Dio, Gesù è la luce del cuore, Alleluia, credete nel Vangelo, apritevi i vostri cuori, Gesù Cristo è la via, è le stesse parole che parliamo, Gesù è la verità, la vita è la salvezza, bisogna credere e pentitevi, perché il regno di Dio è vicino, grazie. Amen.